Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra TED room, penso abbastanza importante oggi. Come avete visto questa settimana ci sono stati tutti i ritracciamenti, avete visto che oramai i segnali del terzo tipo fanno parte integrante della nostra strategia. Chiaramente all'inizio ho preferito inserire questi segnali a rischio basso anche per studiarli, però come avete visto hanno un buon rendimento, soprattutto in casi particolari, quindi lunedì abbiamo messo Australia dollaro, martedì Nuova Zelanda dollaro e mercoledì euro sterlina, sono andati tutti quanti abbastanza bene, chiaramente sono segnali contro trend e vanno presi a rischio basso, però ci sono delle particolarità per cui questi segnali vengono messi nel mercato. Vi faccio vedere, innanzitutto vi devo dire, vi ricordare un po' le regole delle onde di Elliot, come ricordate un trend crescente, facciamo un trend crescente, è così, di qualsiasi time frame, quindi non c'è bisogno che sia weekly daily in maniera generica. Ecco così, così, bene, e poi così. Come sapete, per la regola delle onde di Elliot, la quinta onda può arrivare, non aver forza, e arrivare all'altezza dell'onda 3. Quindi quando succede questo, noi abbiamo un doppio massimo, quindi se io per esempio il segnale del terzo tipo si forma per esempio qua, scriviamo qua, segnale terzo tipo, mettiamo che io scrivo terzo tipo qua, un terzo tipo, chiaramente è sel, quindi sarà rosso, sel, sel, e poi si ferma un segnale del terzo tipo qua. State attenti perché questo è fondamentale, sel, ecco qua. E poi si ferma un segnale del terzo tipo qua. Qual è la differenza che io noterò? Qual è la differenza che io noterò? Che i primi due segnali del terzo tipo non sono accompagnati da un doppio massimo. E questo che vuol dire? Che qual è più pericoloso? Questo o il terzo? Chiaramente è più pericoloso il secondo perché per le regole delle onde di Elliot sappiamo che un doppio massimo può essere quando alla fine di un trend l'onda 5 non ha forza di superare l'onda 3. Quindi secondo voi, nella nostra strategia, d'ora in poi, se ci troveremo all'interno di un segnale del terzo tipo che non ha un doppio massimo, allora lo traderemo allo 0,5%. Se invece ci troviamo davanti a un segnale del terzo tipo che ha un doppio massimo, allora lo traderemo all'1%. All'1%. Quindi diciamo che qui possiamo scrivere 0,5. così. E qui posso scrivere 1. Qui quanto scriverò qua? Qui scriverò 0,5. Benissimo. Ma come sappiamo noi, se c'è un'inversione, che succede se c'è un'inversione? Applichiamo, senza guardare le regole, la regola dei massimi e minimi relativi formato. Il prezzo farà questo. Poi sappiamo che l'onda 2 dell'onda decrescente, ecco dove può arrivare? Può arrivare all'altezza di dove parte 1. E quindi che cosa si è formato qua? Che cosa si è formato qui? Un triplo massimo. Un triplo massimo. Quindi se si forma un segnale, se si forma un segnale a questo livello qua, a questo livello qua, io entrerò all'1%, perché sarà un segnale del terzo tipo S1. Vuol dire che c'è un triplo massimo e entrerò all'1%. E dopodiché, chiaramente, questo qua va giù e farà facciamolo più piccolo così, farà così 1, scusate, 1, 2, quindi onda 1, 2, 3, 4, e onda 5, e onda 5. perché noi sappiamo che l'onda 5 del trend decrescente, se qua c'è un segnale, questo sarà un segnale a questo punto, buy, sell, S, un buy, che entreremo a quanto? che entreremo a quanto? Qua, 0,5, doppio minimo, e quindi, siccome è un terzo tipo, doppio minimo, entreremo a 1. E poi, che può fare questo? può, ecco, può, quindi 5, fare 1, 1, 2, e 3. E stiamo nella stessa situazione di prima, così, ecco, dove si verifica un triplo, un triplo, e quindi anche qui, come vedete, ogni volta che si verifica un doppio triplo massimo, un doppio triplo minimo, e c'è un segnale contro trend rispetto all'onda in atto, quindi, se siamo sul weekly, se siamo sul weekly rispetto all'onda secondaria, se siamo sul daily rispetto all'onda primaria, siamo sul daily rispetto all'secondario, siamo all'H4 rispetto al minore, abbiamo un segnale contro trend, quindi, se il segnale contro trend avviene dopo, se è secco, secco, allora sarà un segnale normale, se invece avviene dopo un doppio massimo e un doppio minimo, sarà un segnale del terzo tipo a cui entreremo con l'1%, se aumentiamo la percentuale di rischio, quindi, adesso andiamo, scusate, la tosse, ma l'allergia è imperante, ecco, andiamo a questo punto a vedere, allora, a vedere le situazioni che si sono verificate, ecco qua, allora, guardate, Australia dollaro, ecco, Australia dollaro, mettiamo che siamo così, Australia dollaro era così, sul deli, quindi, che cosa possiamo dire? Che si è formato un, due segnali del terzo tipo con doppio minimo, questo qui è il segnale migliore, perché, addirittura sul deli, un engulfing, divergenza, quindi, questo qui, come minimo, va sulla rossa, come minimo, e infatti, è andato sulla rossa, adesso si è fermato, siamo in situazione, un attimo, di transitore, perché vedete, oggi ha fatto una candela, un po' così, però, come vedete, questo segnale è stato buono, guardiamo invece Nuova Zelanda, Nuova Zelanda, guardate, ecco, Nuova Zelanda, questo qui, che tipo di segnale è questo? sempre sul deli, quindi non facciamo, è un segnale del terzo tipo, perfetto, ma, che differenza c'è con l'altro? Qual è la grande differenza che c'è con l'altro? Che è un segnale del terzo tipo, sì, però, non viene da un doppio minimo, un doppio massimo, quindi, presumibilmente, sarà un segnale forse più corto, non è un doppio minimo e quindi, e quindi, è più rischioso, è più rischioso, uno, su questo qui, siamo entrati, entreremo allo 0,5%, poi c'è stato il gap ieri, vedete che vi ho mandato, e quindi, non si fa fare niente, andiamo sull'H4, guardate qui, Euro-Dollaro, Euro-Dollaro, cos'è questo? Euro-Dollaro, vedete che ancora su Euro-Dollaro non siamo in un'onda minore buy, ma c'è un doppio massimo crescente, un segnale del terzo tipo che infatti, sul quattro, che speriamo come minimo vada sulla rossa, infatti è andato sulla rossa, adesso sta ritornando, vuol dire che un min è finito, quindi, come vedete, un segnale che c'è un doppio massimo, è un segnale che come minimo va sulla rossa, non va sulla verde, così come Euro-Sterlina, guardate, Euro-Sterlina è la stessa cosa, Euro-Sterlina, questo qui è un'onda mini, mini 2, mini 3, e poi si è fatto il doppio massimo, quindi qui sta un doppio massimo, doppio massimo, quindi il segnale del terzo tipo come minimo mi va sulla rossa, addirittura è andato sulla gialla, sulla gialla, come abbiamo detto, quindi è cominciato il mini-sell, adesso vediamo cosa succede sulla gialla, perché sulla gialla può essere la fine di questo mini-sell inizio mini-buy, però ancora non siamo in un minore, qui abbiamo visto i segnali del terzo tipo sia sul daily che sull'H4, quindi il segnale del terzo tipo lontano dalla media rossa sono segnali del terzo tipo, perché l'onda in atto è buy e i segnali sono se è lontano dalla rossa, questo potrebbe voler dire o fine mini, o fine micro sulla blu, o fino a mini sulla rossa, o fine mini sulla rossa, micro sulla blu, e fino a mini sulla gialla, e vedete il prezzo si è fermato sulla gialla, a questo punto, se stasera ci fa un segnale su H4, su euro sterlina, potremmo entrare buy. Quindi, adesso, dopo questa lettura dei segnali del terzo tipo che sono entrati a far parte della nostra strategia, andiamo a vedere un po' la situazione, la stessa situazione è su euro dollaro, euro dollaro, incrocio, il prezzo è ritornato sulla gialla, non ha fatto un massimo crescente, quindi siamo ancora in onda minore buy, punto interrogativo. Il prezzo è tornato sulla rossa, sulla rossa, e quindi, adesso attendiamo un segnale sulla rossa, o un segnale sulla gialla. Siccome adesso sono quasi le tre, quasi le tre, sull'H4, possiamo entrare buy in questo momento su questo segnale, e questo segnale non è pulito, lo stocastico non è al massimo, non ci sono segnali puliti, sì, si sta un po' muovendo, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede poi alle 4. Poi sterlina, sterlina dollaro, sellina dollaro, H4, vedete, si sta formando un segnale, anche qui, il minore buy ancora non è iniziato, però questo segnale è un buon segnale, vedete che sta toccando sulla resistenza di 1,55, vediamo se la rotta, se la rotta, il minore, il minore dobbiamo aspettare un doppio massimo, cosa che ancora non è avvenuto, c'è ancora una lotta a 1,55, vedete, quindi aspettiamo anche qui un segnale, questo qui sarebbe un segnale sulla vera, sulla blu, un segnale sulla blu, non un segnale sulla rossa, vedete, noi affinché il minore inizi, il prezzo deve arrivare sulla gialla, sulla rossa e fare un segnale, qui è arrivato solamente sulla blu, è comunque un segnale sulla blu, vediamo come va adesso, ecco, per quanto riguarda Euro Australia, Euro Australia, dobbiamo aspettare per l'inizio, vedete qua, qui sono segnali del terzo tipo, vedete, doppio segnale del terzo tipo e il prezzo è arrivato sulla rossa, per entrare SEL su Euro Australia, abbiamo bisogno dell'incrocio della blu con la rossa e un ritorno sulla blu, come si chiamano questi segnali qui? Come si chiamano questi segnali? Perché non ha lasciato segnali sulla rossa, come si chiamano questi segnali? Segnali del quinto tipo, ossia incrocio della blu con la rossa e un segnale SEL fino alla gialla, oppure aspettiamo che il prezzo arrivi tranquillamente sulla gialla, che non sta lasciando dei segnali. Australia dollaro, e guardate qui, Australia dollaro, il prezzo è arrivato fino a qua, come avevo detto ieri, io penso che, che sto vedendo anche sul daily, questi doppi minimi, doppio minimo sul daily, che può portare all'inversione del minore SEL inizio al minore BUY, e vedete che il minore BUY ancora non iniziato, inizia all'incrocio della blu e con la rossa, e quindi non possiamo ancora vedere, questa qui è una buona PIN, vediamo alle 4 cosa succede, cosa succede alle 4 con stop qua sotto di 60 pips, però chiaramente questo qui, come si chiama questo segnale, come si chiamerebbe questo segnale? questo segnale qui come si chiama? che tipo di segnale è? un segnale BUY, contro trend rispetto all'onda minore, l'onda minore SEL, come si chiama questo segnale? sto facendo il monologo, allora a quel punto non faccio più, vi dico solamente la strategia del segnale, quindi va bene, questo qui è un segnale del quinto tipo, segnale del quinto tipo, aspetteremo alle 5, che cosa succede, però è molto rischioso perché l'onda minore SEL è ancora, l'alert è ancora SEL, affinché l'alert si abbai, devono incrociare la rossa con la gialla, con la gialla, e poi ritornare sulla rossa, quindi sarebbe un segnale anticipato rispetto, rispetto all'H4, quindi è un segnale del quinto tipo. Anche qui, vedete, ecco, questo qui è Nuova Zelanda, Nuova Zelanda, dopo il gap, questo qui, che cos'è questo? Questo è un segnale del terzo tipo, magari potremmo entrare su questo, perché c'è anche da colmare il gap, quindi questo qui potrebbe essere un bel segnale del terzo tipo, ecco, però, però cos'è che non ci piace, che non c'è un doppio minimo, quindi è un segnale da prendere più, più con tranquillità, con un rischio più basso, perché questo qui era un mini-cell, dopo il gap, si è formato un mini-cell, mini-cell, scriviamo, adesso, adesso, per attuare la strategia normale, dovremmo aspettare l'incrocio della blu con la rossa, se invece vogliamo moltiplicare una strategia più aggressiva, dobbiamo entrare su questo segnale, al 0,5%, questo è un segnale del terzo tipo, che non ha un doppio minimo, vedete, qui non è un doppio minimo, e quindi minimi decrescenti, quindi è più pericoloso dell'altro, quindi, vedete, Australia-Dollaro, sarebbe un'entrata anticipata, capite perché, quando è che io potrei entrare tranquillamente, buy su Australia-Dollaro, quando è che posso entrare su Australia-Dollaro? Quando si accenderà l'alert buy, il prezzo ritornerà sulla gialla, oppure rischiare un quinto tipo, lo scrivo, quinto tipo, segnale quinto tipo, quinto tipo, molto vicino alla gialla, quindi questo qui è un segnale molto rischioso, vedete, sterlina, sta combattendo contro la resistenza, euro-dollaro, anche questo, non ci piace, vedete questo segnale, quindi, per ora, mancano 10 minuti, questo è un segnale che non ci piace, questo qui, ci piace un po' di più, ma sta sulla blu, questo qui, sta vicino alla gialla, questo qui è un segnale del terzo tipo, magari, si potrebbe presentare questo, perché ha poco i pipi di spread, ha 60 pipi di spread, vediamo, usd-cad, ecco qua, usd-cad, cosa vedete voi? Che si sta formando, siamo sempre in mini-cell, si sta formando un segnale, un segnale sulla rossa, perché è pericoloso questo segnale? Perché ancora l'alert è by, è by, però, si può rischiare questo segnale, l'alert è by, vuol dire che siamo ancora in un mini-cell, vedete, siamo in un mini-cell, mini-cell, e quindi questo qui sarebbe mini, mini-1, mini-2, mini-3, quindi questo qui è un segnale, è un segnale, vediamo, chiaramente, se entriamo by qui, è come se entrassimo cell qui, l'avete capito oramai che è uguale, lo vedete che è uguale? è uguale, quindi non c'è bisogno di, ecco, è guardate, identico, quando io vi dico usd-cad, guardate usd-yen, identico, quindi usd-yen è il problema che sta un po' più su, come si chiama questo segnale? Come si chiama questo segnale? Segnale, ecco qua, segnale del quinto tipo, scusate, quinto tipo, quinto tipo da entrare con rischio basso, quindi come vedete, io ve lo dico sempre, vedete, se Nuova Zelanda, Australia-Dollaro sta facendo un segnale buy, Nuova Zelanda-Dollaro sta facendo un terzo tipo buy, usd-cad sta facendo un, questo qui, anche questo, questo qui, come lo possiamo chiamare questo segnale? Segnale del quinto tipo, perché si chiama segnale del quinto tipo? Perché non hanno ancora incrociato le medie, quindi rosa, e devo scrivere segnale, su quale vogliamo entrare? scegliete voi. Allora, vedete quanti ce ne sono, no? Siccome noi siamo consapevoli, che sono segnali dischiosi, consapevoli, entriamo a rischio basso. Allora, vogliamo entrare su questo Nuova Zelanda, vogliamo entrare su SDCAD, vogliamo entrare su SD Yen, però sono segnali contro trend, che accompagnano il prezzo, però, se questo segnale va giù, vuol dire, che, questo qui arriva sulla gialla, vedete? Siamo ancora, questo comincia a un minore sell, minore buy, minore sell, fino alla gialla, quindi ci sono, però non ci piace tanto questo segnale, vedete? Bisogna guardare i segnali, allarghiamo, quindi, dove potremmo entrare qui? O alla rottura, o a metà, o alla rottura a metà, vedete che i segnali non sono ben precisi, anche Nuova Zelanda, vedete che non è ben preciso, vedete che sono identici al contrario, guardate, Nuova Zelanda è così, SD Yen è così, vedete? Non c'è la sicurezza, vedete, non c'è la sicurezza, qui ci ha preso lo stop, lo stop a zero, su SD Yen ha preso lo stop a zero, allora a quel punto, vedete, a questo punto, si può applicare, si può applicare la strategia classica, ossia la strategia classica, io oggi sono entrato qui, ho messo lo stop a zero, me l'ha preso, va bene, non fa niente, adesso c'è l'incrocio della blu con la rossa, a questo punto, al prossimo ritracciamento, si entra, con la strategia classica, avete capito, io oggi, su questo segnale qua, allarghiamo, vi ho detto, due strategie, ecco qua, due strategie, guardate, vedete, io sono entrato su questo, vedete che le medie ancora non si sono incrociate, e quindi non posso dire che è cominciato il nuovo mini buy, ma c'è solo il mini sell, adesso, posso dire che è cominciato, si scrive un mini buy ancora, punto interrogativo, al prossimo ritorno, sulla blu, o sulla rossa, entro, va bene? Quindi, prima ho anticipato, però ho messo subito lo stop a zero, euro sterlina, aspettiamo un segnale sulla gialla, aspettiamo un segnale sulla gialla, di fine mini, se ci fa un segnale stasera, si entra, il petrolio, sta facendo un segnale, sulla blu, non perfetto, qui cos'è? Questo è un segnale del terzo tipo, vedete questo, è un segnale del terzo tipo, questo segnale del terzo tipo, vedete che non è preceduto da nessun doppio minimo, quindi, sull'H4, un segnale del genere è pericoloso, perché? Perché non ha un doppio massimo, quindi, potrebbe finire un micro, e tornare su come sta facendo, vedete che finisce su un micro, se ci fosse stato un doppio massimo, allora poteva finire un migne, e arrivare sulla rossa, vedete, quindi, però il segnale sul petrolio non è perfetto, va bene? Non perfetto, vediamo l'oro, ecco l'oro, io, da ieri vi sto dicendo, che secondo me sta salendo, questo segnale, anche qui, stiamo su una resistenza importante, se questo diventasse verde per le quattro, allora sarebbe un buon segnale del quinto tipo, però ancora, non possiamo dire nulla, dire nulla, quindi, abbiamo fatto l'analisi di tutto, mancano cinque minuti, e rivediamo la situazione, allora, con calma, euro-dollaro, si stanno formando segnali su H4? Chi è che entrerebbe buy su euro-dollaro? Solamente chi entrerebbe, se vede qualche segnale? Ok, poi, sterlina-dollaro, sterlina-dollaro, io aspetterei un ritracciamento migliore, allarghiamo, io aspetterei un ritracciamento migliore, vedete questi segnali del terzo tipo su sterlina, dopo un doppio massimo, guardate dove è arrivato, quindi, non mi piace, anche se questi qui sono due buoni segnali, però, preferisco sulla rossa, che parta sulla rossa, euro-Australia, euro-Australia, si sta formando, un segnale del quinto tipo, perché non è un segnale del quinto tipo questo? Paolo Tumbarello, perché non è un segnale del quinto tipo quello? Quindi è molto pericoloso, quindi non bisogna assolutamente, assolutamente tradarlo, quindi vedete, non ci sono le condizioni, non c'è né un segnale sulla rossa, e infatti, non c'è, non c'è incrocio. Ok, poi, Australia-Dollaro, Australia-Dollaro, vedete segnali? Posso entrare e buy? Molto rischio, non è un buon segnale, vedete, non è un buon segnale, lo stocastico diverge, non mi piace, vedete, non mi piace. Se levassi la gialla, allora sì, ma non mi piace. Nuova Zelanda, guardate come è diventato, e il corpo è rosso, entrereste voi? Chi è che entrerebbe qua? Silvia, Silvia entrerei dove? Dove entreresti? Su Nuova Zelanda-Dollaro, Silvia? Entreresti qui? Silvia ha detto che entrerebbe? Silvia, qui dove vuoi entrare? Però, che cos'è questa cosa che non ci convince? Il corpo della candela, com'è? Vedi che è rosso? Se fosse stata, se fosse stata, la coda superiore è molto ampia. quindi, non lo so, vediamo altri, USD CAD, USD CAD, è un quinto tipo, è ancora un quinto tipo, POST potrei rischiare, potrei rischiare con stop qua sopra, magari mettere un pendente sotto, vedete? Quindi vedete che ancora non sono incrociate le medie, non sono incrociate. Anche qui, USD Yen, vedete? Segnale del quinto tipo, c'è la gialla vicino, Stellina Yen, uguale, Stellina Yen abbiamo detto che entreremo al prossimo ritracciamento, quindi mettiamo, mettiamo un ellisse blu, ecco qua, ellisse blu, ecco qua, ellisse blu, Stellina, niente, petrolio, petrolio non ci piace, niente, vedete che i segnali sono ambigui? Guardate l'oro, vedete? Tutto ambiguo. Allora vi direi, l'oro, vedete che, come stanno le medie? Guardate le medie, guardate le medie dell'oro, guardate, le medie di USD Yen, vicine, vedete? sembra che c'è inversione, USD CAD, quasi inversione, Nuova Zelanda, giù, Australia Dollar, quasi inversione, vi rendete conto? Vi rendete conto che siamo tutti vicino a degli incroci? Ve lo rendete conto? Se siete consapevoli che è un momento difficile, quindi si può lavorare, solamente con i segnali del quinto tipo e terzo tipo, che vuol dire? Vuol dire che stiamo in conto trend, vedete? Australia Dollar aveva fatto questa candela, adesso sta giù, non ci piace questa candela, assolutamente, è troppo vicina alla gialla, è rischiare, allora, perché rischiare? Possiamo aspettare le sette, possiamo aspettare stasera i daily, siete d'accordo con quello che vi sto dicendo? O c'è qualcuno che entrerebbe con qualche segnale? Non c'è problema, voi potete anche dire, ecco, Paolo, Paolo, sono contento, ecco, cominciamo a dire voi, cercare di rendere indipendenti, allora, Paolo, vede questo qua, questo segnale, migliori di tutti, infatti, è quello perché, la media rossa sta bella posizionata, vedete? Bella giù, eh, quindi, questo qui è un segnale del quinto tipo, ok? Possiamo provare questo segnale, allora, Paolo, vuoi entrare al 50% o alla fine della candela? Il segnale è del quinto tipo, va bene? Quindi il rischio è minimo, mettiamo un rischio minimo, seguiamolo, mettiamo un rischio dello 0,3, vedete perché io ho paura, perché, se fosse stato l'incrocio, se ci fosse già stato l'incrocio, allora io avrei messo un buon rischio, ma come vedete, non c'è incrocio, quindi è un quinto tipo, eh? Quindi al 50%, Paolo al 50%, quindi come calcoliamo il 50%? Si fa così, allora, la candela ha avuto 73 pips, quindi 70, 35, 36, ecco, 36, qua, a 1,23, 1,23 e 20, quindi possiamo mettere un pendente, quindi 1,23,20, 0,5, io entro con 0,05, mettiamo un pendente, ordine pendente, quindi sell limit, com'era 1,23, e 35, 1,23, com'era? com'era quello lì? 1, ecco, 1,23 e 15, quindi 1,23 e 15, lo stop lo mettiamo a 1,23, dove vogliamo mettere lo stop? Facciamo il 20, va bene, decidete voi, state decidendo voi il segnale, 1,23 e 20, lo stop dove lo mettiamo? Forza, facciamolo insieme questo segnale, non me lo fate fare sempre a me, guardate che io entro con lo 0,05, quindi sto entrando allo 0,03% del mio capitale, poi lo stop dove? 1,23, o lo mettiamo a 1,24 e 10, o 10 pip sopra, dove lo vogliamo mettere? Io lo metterei sopra la resistenza, 1,24 e 20, 100 pip, ecco qua, sopra la resistenza, meglio, io direi, quando c'è una resistenza così forte, mettiamolo sopra, quindi, si poteva entrare o a mercato, o a rottura, o a metà, noi abbiamo scelto la metà, ok? A rischio, a rischio bassissimo, quindi, riepilogando, com'è l'entrata? Allora, entri, così lo scriviamo in chat, ditemi voi, allora, chat, forex, chat, allora, mettiamo il segnale, segnale didattico, scelto, 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 da voi, da voi, in trading room, room, allora, il segnale è un sell limit, su, usd cad, allora, entri quanto, riepilogando, entri a quanto, riditemi un po' l'entrata, entri 1,23, 1,23, e 20, stop, 1,24, e 20, il target, lo mettiamo, il primo target, perché se va giù, se questo va giù, va giù di brutto, se questo va giù, va giù di brutto, mettiamolo, a 1,21, vediamo, 1,21, 1,21, 1,21, e 50, ecco qua, segnale didattico, ecco, segnale, ecco, ecco, abbiamo messo il segnale, e inviamo, ecco, adesso a vedere il segnale, aspettate, vi faccio vedere un po' come funziona tutto, poi si fanno le mail, ecco, mandiamo la mail, così tutti quanti ce l'hanno, ecco, vedete come si fa le mail, ecco, segnale, didattico, sell limit, su usd cad, allora, durante, la trading room, questo lo facciamo per chi non c'è, la trading room, i presenti, hanno inserito, il seguente, segnale, ecco qua, lo prendiamo, e, obbiettivo, ecco, ecco, così vi faccio vedere un po' che palle tutte le volte, ecco, c'è, rischio, è 0,5%, 0,5%, perché, del quinto tipo, ecco qua, quindi, in chat, ecco qua, salvo, poi, se non funziona, la colpa è di Paolo Tumbarello, va bene? la colpa è scherzo, è un buon segnale invece, bravo Paolo, vi abbiamo inviato questo segnale didattico, complimenti a Paolo, perché comunque è un buon segnale, quindi, ribellocando, abbiamo messo questo segnale, segnale del quinto tipo, va bene? ci sono domande? stop, 1, 24 e 20, ci sono domande sul tutto, abbiamo fatto una bella riassunto di, di tutto, ci sono domande? il minore non è confermato, deve fare un doppio massimo, non è confermato niente, ancora siamo in minore SEL, deve superarlo, è un caso limite Marco, aspettiamo, aspettiamo, è un caso limite, se alle 23 sì, no no, se le due mete gialle e rosse, dovessero incrociare, è ancora meglio, se incrociano, se la rossa incrocia la gialla, vuol dire che il prezzo è dato giù, è chiaro che poi, annulla il segnale, questo è un segnale limit, è chiaro che, la strategia può essere, o alla fine del segnale, o a metà, abbiamo scelto la metà, vediamo come va, ok? non possiamo saperlo, adesso non è che, ci sono tutte le strategie, uno può farlo, o a mercato, o alla rottura, o a metà, però, ricordatevi che, un grande, infatti Paolo, che sta studiando, per diventare un trader, giustamente lui, cerca di prendere il prezzo, più alto possibile, e non più basso possibile, questo è già, già una cosa apprezzabile, che il prezzo, deve essere preso, più alto possibile, comunque, questo segnale, è buono, perché anche allo stocastico, vedete, stocastico, allo stocastico, e tutto, tutto va bene, qui abbiamo fatto, una buona analisi, ecco, da adesso, le trading room, cercate anche, ecco, di farle voi, nel senso, segnali, come ha fatto Silvia, per esempio, Silvia, voleva entrare, su Nuova Zelanda Dollaro, vediamo, guarda Silvia, per Silvia, vedi Silvia, perché non siamo entrati noi, se fosse stato verde, bene, però ancora, ma ciò non vuol dire, che non potrebbe entrare, allora lì, tu lo puoi mettere, qui, a 0,70 e 30, l'entrata, vedete, non è un buon segnale, perché il segnale, che ci piace a noi, è, uno, un hammer, col corpo verde, va bene Silvia, perché non siamo, non siamo entrati? Ok, bene, però Silvia, giustamente, ha visto un segnale, del terzo tipo, che ancora esiste, ancora c'è, però, se proprio uno volesse, metto un bel, un bel, sell stop, però, anche questo, potrebbe essere un ritracciamento, un ritracciamento, per poi, risalire, quindi il segnale, ci può stare, facciamo una rapida, carrellata, vedete, euro, dollaro, non ci piaceva il segnale, sta scendendo, sterlina, dollaro, il segnale, non ci piaceva, sta scendendo, euro, Australia, questo qui, euro, Australia, che segnale è? Dovamo metterlo, è un segnale, questo potrebbe essere un, un segnale, rosa, del quinto tipo, il segnale, quinto tipo, niente, Australia, dollaro, niente, vedete, vedete che vi ho detto io, in diretta, guardate, non ci piace, sta scendendo, vedete, applicate al massimo, le strade, le regole, guardate, non ci piace, sta scendendo, poi magari risale, Australia, Canada, sta salendo a prenderci l'ordine, va bene, abbiamo messo lo stop alto, va bene, ci va bene, però abbiamo rischiato poco, perché? Perché le medie non si sono incrociate, vedete, anche lo yen uguale, vedete, se scendono gli altri, salgono questi, sterlina yen, sta ancora salendo, euro, ecco, guardate, qui è euro sterlina, euro sterlina, quando è che lo traderemo, sell, lo traderemo sell, se scenderà sotto la gialla, e si incrocia la gialla, vediamo l'oro, l'oro, vedete, anche l'oro sta scendendo, vedete che, tutto ciò che è il dollaro a denominatore, scende, tutto ciò che è il dollaro a numeratore, sale, come sempre, qui vediamo come si sviluppa, il segnale, il segnale, sempre al 0,5%, abbiamo fatto un bel ragionamento su tutti i cambi, e aspettiamo l'evoluzione, come vedete, la cosa che vi dico, momento difficile, perché tutti i cross si trovano qui, vicino alla gialla, quindi scenderà, o romperà, quindi questo è il momento, più importante, più difficile, perché anche euro dollaro, euro dollaro, ci sono, ancora stiamo, in un minore sell, qui, vi manderò a più presto la registrazione, e vi ringrazio, di tutto, comunque stiamo andando avanti, a proposito, ecco l'altra cosa che vi volevo dire, le medie, per quanto riguarda le medie, facciamo sempre un controllo, tra, la media blu, vedete, la media blu del daily, con la media H4, rossa, devono essere il stesso lavoro, vedete, io ho messo 34, vedete, guardate, euro dollaro, la verde, la verde, è 1,12,25, la rossa, uguale, 1,12,25, è la 34, pian piano le miglioriamo, però la media rossa, è 35, da 35 a 42, 35 a 42, quindi, si tara così, ok, quindi ogni tanto vado ad aggiornare, vado ad aggiornare proprio qua, vedete, nel corso, le aggiorno, vedete, le aggiorno, 34, sì, però, diciamo che se mettete la 35, va bene, pian piano, è chiaro che se le medie sono piatte, andranno ad abbassarsi per un momento, cioè, quando le medie sono piatte, così si abbassano, e poi riprendono il valore della 35, perché siamo in H4, quindi, io pian piano le aggiornerò, la situazione delle medie, va bene, quindi, la blu del daily, equivale alla rossa dell'H4, devono avere gli stessi valori, stessi valori, quindi devo calcolare, per esempio, facciamo l'oro, l'oro, ecco qua, oro, l'oro del daily, vedete che sta qua, è, 1,181, punto 30, la rossa, 1,181, punto 67, quindi quasi uguali, e abbiamo messo la 21, però vedete che, è piatta, e quindi, quando è piatta, la media abbassa il valore, chiaramente, abbassa il valore, però io ve l'ho messo qui, mettete, per ora, se non avete voglia di fare questo gioco, mettete la 35, da 35 a 42 va bene, cambia di poco, mentre la gialla resta 120, e infatti, come dice Emmanuel, se guardiamo il daily, che poi, guardate il daily, il daily, guardate il daily, ci dice che i minimi sono crescenti, quelli con il dollaro e il minimatore, sono tutti crescenti, vedete, guardate anche euro-dollaro, questo è anche importante, euro-dollaro, guardate, tutti crescenti, vedete, minimi crescenti, però questo è un segnale sul daily, però, sono crescenti, quindi la mia paura, è che comunque, questo sia l'inizio, dell'onda secondaria, buy, quindi adesso, in questo momento, vedete, il prezzo è tutto sulla gialla, anche sul daily, quindi molto difficile, e quello che volevi dire, Manuel, è giusto questo qua? ok, perfetto, quindi vi ringrazio, e vi mando a più presto la registrazione, per quanto riguarda le medie, se ci sono variazioni, ve le scrivo, ve le scrivo in rubrica, però, per ora, grandi variazioni non ci sono, vedete, diciamo che le medie, la rossa dell'H4, va da 35 a 40, ecco, potrebbe abbassarsi, solamente se è piatta, se quando c'è un'inversione, che la media da inclinare, diventa piatta, per un momento si abbassa, e poi quando si riprende la direzione, ritorna sulle 35, pian piano le metto, e vediamo che media, possiamo mettere definitiva, ok, quindi, per quanto riguarda, la gialla, mettete 120 o 115, ma la gialla, non ha, è molto stabile, è molto sicura la gialla, quindi vi ringrazio, buona serata a tutti quanti, grazie a tutti,